Non c'è pace per i vaccini anti-influenzali. Questa volta è stata l'Agenzia del Farmaco del Ministero della Salute a disporre il blocco di quasi 500.000 dosi ritenute potenzialmente pericolose per la salute pubblica. Sull'argomento poco fa è intervenuto il Ministro Balduzzi. Per sapere cosa ha detto noi ci colleghiamo subito con il Ministero della Salute dove c'è per noi Augusto Cantelmi. Augusto, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. La conferenza stampa del Ministro Renato Balduzzi è appena iniziata ma subito ci sono delle notizie importanti da dare a tutti i telespettatori perché è vero c'è stato questo blocco di una serie 4 lotti di vaccini anti-influenzali che presentavano delle anomalie nelle fiale. Ovviamente questi prodotti erano in commercio già fino a questa mattina in tutte le farmacie e quindi delle persone sicuramente lo hanno acquistato. Quindi il Ministro della Salute dice a tutti coloro che, poi andremo a vedere nel dettaglio quali sono questi farmaci, hanno comprato e già utilizzato questo farmaco, chiamare già da venerdì mattina il numero verde 1500. Ripeto, il numero verde 1500 del Ministero della Salute. Ovviamente tutte le persone che hanno comprato il vaccino e non l'hanno usato devono assolutamente non usarlo fino a quanto non verranno fatte le apposite verifiche. Ma su questa delicatissima questione vediamo il servizio. Da qui dal Ministero della Salute è tutto. A voi. In attesa dell'arrivo dei primi freddi scatta l'allarme vaccini. Il Ministero della Salute e l'AIFA hanno disposto il divieto immediato a scopo cautelativo dell'utilizzo dei seguenti vaccini anti-influenzali. Agrippal, in flupozzi subunità, in flupozzi adjuvato Fluad. Ai cittadini dunque viene richiesto di non acquistare tali vaccini tutti prodotti dall'azienda Novartis fino a nuova comunicazione, ossia fino a quando non verranno fatte ulteriori verifiche per capire se i farmaci possano avere o meno effetti collaterali. Si stima che potrebbero essere circa 6 milioni le dosi del vaccino Novartis in Italia ma quelli a rischio non dovrebbero superare il numero di 500.000 ma i medici di famiglia invitano a non cadere in facili allarmismi anche se in due settimane è la seconda volta che i vaccini tornano alla ribalta della cronaca per sospetti nella preparazione dei prodotti.